E allora, come abbiamo detto qualche istante fa, è chiaro che è finita la campagna elettorale, poi si cominciano a fare i conti, no? Ma com'è andata? Tu cos'hai detto? Com'è finita? Con noi c'è l'avvocato Alessandro Settinieri che fino a stamattina era, diciamo, il responsabile del circolo di Fratelli d'Italia ragusano. Però da oggi non più, perché ci sono le lettere di dimissione. Allora, intanto, avvocato, diciamo questo, so che ieri vi siete incontrati, no? Cos'è successo? C'è stata una riunione del coordinamento provinciale che era chiaramente già organizzata qualche giorno per fare il punto della situazione, perché non si è votato solo a Ragusa, si è votato anche in altri comuni. Il partito ha avuto risultati ottimi a Comiso, a Ragusa, diciamo, ci aspettavamo sicuramente di più, a Modica non era neanche presente la lista del partito, quindi abbiamo fatto un po' un'analisi di questo risultato nei vari comuni. È stata quella l'occasione in cui io appunto… Il partito ha comunque un senatore, insomma, quindi… Il partito ha un senatore, quindi che ha anche… ricopre numerose cariche anche all'interno del Senato, ha un capogruppo all'Assemblea regionale, quindi chiaramente abbiamo approfittato di questa riunione per fare un resoconto, un esame della situazione. Per quanto riguarda la situazione di Ragusa, io ho colto l'occasione per rassegnare le mie dimissioni in questo coordinamento provinciale. Voglio dire che la mia decisione di rassegnare le dimissioni, diciamo, parte un po' da lontano. Io avevo già deciso da qualche mese di rimettere questo mandato nelle mani del coordinatore provinciale perché ricoprivo questo incarico ormai da quasi 4 anni. Il partito in questi 4 anni è cresciuto notevolmente, non solo in Italia ma anche a Ragusa e chiaramente quando un partito cresce iniziano a venire fuori una serie di problematiche di coordinamento, di gestione anche di tutte le risorse che fanno parte del partito, ho notato come negli ultimi mesi questa gestione era diventata complicata perché entrando nel partito altre forze, altri iscritti iniziano e soprattutto trattandosi di un partito in forte espansione, in forte crescita, le aspirazioni di ciascuno degli iscritti chiaramente cominciavano ad entrare in collisione. E quindi già lei aveva deciso, però Avvocato non è che come nelle squadre di calcio quando si perde si cambia allenatore e le hanno chiesto di abbandonare. Allora probabilmente poteva essere anche nei programmi del coordinatore provinciale, probabilmente ci poteva stare sicuramente anche se ritengo che il risultato di Fratelli d'Italia per quanto al di sotto delle nostre aspettative sicuramente una parte di colpa me la posso debitare io come responsabile del partito, ma chiaramente non può essere che il partito abbia avuto meno di quanto ci aspettavamo solo per una responsabilità mia personale, ci sono stati tanti… C'è come pensato di prendere almeno un paio di consiglieri? Ma sicuramente… Che le ha preso uno solo, però ha superato il 5% quindi… Siamo arrivati penso al 7%, quindi sicuramente se noi facciamo un confronto con altre elezioni siamo cresciuti, se facciamo un confronto con quello che è l'andamento nazionale del partito o con quello che il partito ha preso in altri comuni, in altre realtà, chiaramente è un risultato al di sotto delle nostre aspettative. Però probabilmente gli altri comuni non avevano l'effetto Cassì. Non avevano l'effetto Cassì, oppure in questo caso funziona molto l'effetto trainante del candidato sindaco, se noi avessimo avuto sicuramente un candidato sindaco che avesse vinto l'elezione probabilmente il risultato della nostra lista sarebbe stato maggiore, questo ci ha penalizzato, chiaramente il risultato non parte da marzo a oggi, le responsabilità o comunque le motivazioni che hanno portato a questo risultato vanno viste nel tempo, negli ultimi anni, in quello che è stato anche il rapporto con Cassì. Forse voi avete tentato sempre di ricucire questo discorso con Cassì, ma poi? Come ho scritto anche nel mio comunicato di stamattina, fino a pochi mesi fa si era fatto un ulteriore tentativo perché all'interno del partito chiaramente vi era una parte che propendeva per cercare un accordo con Cassì. Io, come ho anche detto nel mio comunicato, non ero tra quelli, anche perché l'intenzione di Cassì era abbastanza chiara, non voleva partiti, quindi ritenevo che… Ma l'aveva detto in tutti i modi. L'aveva detto in tempi non sospetti, quindi ritenevo che a sei mesi dalle elezioni continuare ancora a cercare di come è stato in realtà fatto. Noi ci siamo ritrovati poi a metà gennaio con una risposta definitiva che a quel punto ha messo tutti quanti davanti all'evidenza dei fatti e da gennaio abbiamo iniziato a… Avete dovuto cercare un candidato. E probabilmente anche questo cambio, diciamo Spadola, Bessia Versora, Culturera, anche questo ha inciso, diciamo. Ma non credo che abbia inciso negativamente perché noi ci siamo trovati… Non negativamente nel senso che vi ha messo… però magari se ne è partiti in un modo poi cambi il leader. La scelta di Pasquale Spadola che io rifarei nuovamente in quella fase, in quel momento particolare è stata anche dettata dal fatto che negli incontri del centro-destra c'era una situazione di stas, di… nessuno riusciva a fare un nome. Nessuno aveva il coraggio di fare… Sì, quindi noi abbiamo fatto un passo avanti con la disponibilità del dottore Spadola e facendo appunto il suo nome, che inizialmente aveva avuto il consenso e la disponibilità anche di Insieme, di Forza Italia, di tutto il resto del centro-destra. Poi c'è stato un ripensamento e quindi abbiamo dovuto, grazie anche alla collaborazione di Pasquale Spadola, trovare un'intesa su un altro nome che è stato… Giovanni Cotrera si è comportato bene, senza dubbio… Se questo nome fosse uscito prima, probabilmente oggi… Certo, se fosse uscito un anno prima è già con un discorso… Stavamo qua a parlare probabilmente di altre cose. Di altre cose, però lei ha avvocato nella sua lettera anche fatto cenno ad un… diciamo degli errori che sono stati fatti. Sempre questo discorso di attaccare l'avversario più favorito in modo sbagliato, secondo voi? Sì, in campagna… Certamente col senno di poi riusciamo tutti quanti, siamo in grado di fare valutazioni che magari durante la campagna elettorale non siamo riusciti a fare o nessuno di noi ha fatto. Cioè chiaramente col senno di poi i continui attacchi probabilmente fatti concordemente da tutti e tre gli avversari del sindaco Cassì non hanno poi sortito quegli effetti… Cioè hanno creato la vittima… Esatto, hanno creato magari… hanno fatto diventare il Peppe Cassì una vittima davanti agli occhi della città. Tutti ce l'hanno con lui… Esatto, chiaramente se ci sono cose che non andavano, andavano messe sul piatto, andavano denunciate, andavano fatte vedere, conoscere alla cittadinanza. Però probabilmente, forse agli occhi della cittadinanza, è sembrato che tutti i tre candidati avversari del sindaco avevano un unico obiettivo di attaccare e basta. E probabilmente sui programmi, sulle idee, su quelle che erano gli obiettivi, le cose che si volevano fare per Ragusa, si è avuto meno tempo e si è arrivati meno alla città. Ma chiaramente questa è una valutazione che si fa adesso, nel momento in cui eravamo in campagna elettorale, tutti quanti si era concordi… Sembrava invece giusto… Cioè diciamo, non attaccare, ma far conoscere la gente… Mettere all'estretto il sindaco… Poi c'è stato chi magari ha puntato di più su questo, chi meno… Avvocato, e ora che succede in Fratelli d'Italia? Ora con le mie dimissioni verrà nominato un commissario che traghetterà il partito verso la nomina del nuovo coordinatore. Fratelli d'Italia è un partito in cui non sono stati mai celebrati dei congressi, quindi anche il coordinatore poi avverrà direttamente da Roma su… Cioè non si fa il congresso… No, non c'è un'elezione, quindi… C'è un'indicazione… Un'indicazione, quindi questa a seguito delle mie dimissioni… Però bisognerebbe approfittare del fatto che c'è la Meloni, insomma dovresti approfittare di questo momento, perché poi non si sa mai, nel nostro mese i primi ministri durano poco, ma non per… come augurio… Sono convinto che la Meloni durerà a lungo… Va bene anche perché è meglio avere governi duraturi che ogni anno cambiarli, no? Quindi bisognerebbe approfittare di questo… Sì, sì, ma anche perché abbiamo terminato l'elezione amministrativa, ci saranno l'anno prossimo le elezioni europee, ci saranno sicuramente le elezioni provinciali che potrebbero essere accorpate alle elezioni europee, quindi ci sono poi in altri comuni, ci sono altre elezioni, quindi chiaramente per Ragusa le prossime elezioni sono quelle provinciali. Quindi si aspetta questo coordinatore a vedere come si può partire nuovamente? Penso che sia anche… queste mie dimissioni possono essere anche lo spunto per un confronto interno, per verificare tutto quello che magari non è andato bene, quello che bisogna fare, anche perché io, ripeto, mi sono dimesso da coordinatore ma rimango nel partito, rimango a disposizione di… Chiudiamo parlando, ne abbiamo parlato prima un attimo così, del consigliere comunale che c'è, che è Rocco Pitetti, che farà l'opposizione e sarà bella perché sarà un'opposizione variegata, no? Fratelli d'Italia, il PD, il 5 Stelle, come lo vede Rocco che è un combattente, me lo ricordo, dai tempi andati. Penso che sulle qualità politiche umane di Rocco Pitetti penso che non ci sia nulla da aggiungere. Penso che in questa situazione particolare, in cui ci sono 17 consiglieri di maggioranza e 7 di minoranza, con uno solo di Fratelli d'Italia, il fatto che Fratelli d'Italia sia rappresentato da Rocco Pitetti penso che sia forse la cosa migliore che potevamo aspettarci, anche perché lui ha un esperimento, penso che sia forse la quinta consigliatura che va a fare, è stato assessore, è stato capogruppo, quindi conosce bene le dinamiche del Consiglio Comunale, è uno che per sua natura e abitudine è abituato a studiare tutti gli atti, gli atti del Consiglio. Poi ora è in pensione, quindi magari gli verrà... Ancora no, però avrà sicuramente alle spalle tutto il partito che lo supporterà. Avvocato, io la ringrazio, abbiamo chiarito questa posizione dopo la lettera di dimissione, quindi non è una punizione ma è una scelta che aveva fatto... Penso un ulteriore atto di servizio mio nei confronti del partito. Per il partito, grazie, andiamo avanti con il Tore del Giornale.